Il mercato settimanale si farà a Campo Genova, a Piazzale degli Irpini, sparisce da qualsiasi ragionamento e quanto ribadito ieri dal sindaco Festa che ha incontrato gli ambulanti al tavolo dove erano presenti anche l'assessore Giacobbe e il dirigente Cicalese. Il primo cittadino è stato categorico. Se condivideranno la nostra decisione e le analisi che stiamo svolgendo, che subiranno un breve stop solo a Ferragosto, dovessero registrare l'assenza di contaminanti, ricevuto il parere dell'Asle della certificazione di Noe e Arpac, sono pronti a far riprendere il mercato ancora prima della sentenza del Tar. Mentre un nuovo incontro è stato fissato per lunedì pomeriggio, quando il primo cittadino illustrerà ai commercianti le nuove ubicazioni dei posteggi con le varie soluzioni. Se la prossima settimana si arriverà ad un accordo definitivo ad inizio settembre in città riprenderà il mercato, gli spazi inevitabilmente risulteranno ridotti, ma il sindaco si dice ottimista rispetto ad una soluzione che potrebbe mettere tutti d'accordo. FES ha anche ribadito che al mercato parteciperà solo chi è regola rispetto al pagamento delle tasse, sottolineando ancora una volta di essere disponibile alle rateizzazioni.